Ciao Vogue, sono Matilda De Angelis e questo è In The Bag. L'oggetto più strano che potete trovare nella mia borsa, oggi, perché cambia, vi dico, oggi sono delle bolle di sapone. Cioè guarda come improvvisamente la vita va bene, c'è capito va tutto bene, è un attimo e la vita va bene. Guarda tu vai da uno, vedi sta un po' male, tieni amore, un po' di meraviglia per te. You're fantastic today. L'oggetto che porterei su un'isola deserta è sicuramente la crema solare. Premesso che forse io su un'isola deserta morirei dopo pochi secondi, ma non è questo importante. Però sicuramente la crema solare, io come potete vedere sono bianca come un cencio, quindi onde evitare ustioni di quarto grado, mi metterai la crema solare. Un po' del resto, non lo so. Una cosa che non può mancare assolutamente nella borsa in viaggio, sono gli Airpods. Oltretutto sono degli Airpods a cui sono abbastanza legata perché come vedete sono taggati HBO e me li regalarono per la promozione di Undoing. Ma io sono una che veramente ascolta ogni tipo di musica, quindi dipende anche come mi sveglio la mattina. Quando viaggio cerco di privilegiare della musica che mi rimandi a un'idea di sogno, di libertà, quindi ecco magari vado su qualcosa o di molto strumentale che non abbia troppe parole di mezzo. Un'idea delle belle vibes, felici, gioiose. Il mestiere dell'attore è un mestiere sicuramente fatto di molte attese, quindi io consiglio nella borsa di un'attrice, non può mancare lo yo-yo. Io ho sempre avuto una fissa per gli yo-yo anche quando ero piccola e un po' di tempo fa ne ho trovato uno in casa e mi ha ricordato proprio quel senso in realtà di... è anche un antistress, non so come dire. Cioè a qualsiasi momento d'attesa io lo passerei con uno yo-yo in mano o con qualsiasi altra cosa che non sia per forza stare attaccata al cellulare. Pronti? Il modo in cui porto qua della mia famiglia, dei miei amici, dei miei affetti in giro è il cellulare. Sarò banale, ma è il cellulare. Eh sì, io faccio schifo a fare le foto, però mi impegno. Devo dire che le mando, condivido alcuni momenti in cui magari mi viene in mente una determinata persona, mi piacerebbe che lei fosse con me. Io penso che tutti dovrebbero avere nella borsa un elastico per capelli. Perché intanto legarsi i capelli aiuta la concentrazione, evita di impazzire per il caldo. Può essere usato in realtà in 1200 modi diversi, non lo so, ti si rompe una spallina di un vestito, ti metti l'elastico a tenerlo, però secondo me l'elastico in generale è proprio must have in the bag. Sicuramente la mia borsa diventa più pesante quando viaggio, viaggio spesso e mi porto sempre il termos. Questo l'ho preso a Torino nel periodo in cui giravo lì, quindi c'è anche un piccolo ricordo legato alla città di Torino. Sono convinta che sia importante andare verso, diciamo, i rifiuti zero, eliminare più possibile la plastica. E poi sicuramente un libro. Sicuramente in pandemia leggere mi ha aiutato tanto, ho avuto un rifiuto molto forte, feroce per il multimediale. L'estate è bello leggere, bello leggere, al mare. Il rossetto. Io ho una malattia per i rossetti, ho una malattia, lo riconosco, lo accetto, lo ammetto. E devono stare assolutamente nella parte piccola della borsa perché sennò posso andare fuori di testa. Ma perché ti stai mettendo il rossetto? Dove devi andare? Per me, belli, per me, io voglio avere costantemente le labbra plump, cute, red, whatever. Ecco, finito il mio show. E vanno riposti qua. E siamo bene. Nella mia borsa non può mancare il portafoglio. Non sono molto romantica nel portafoglio, ho delle cose materiali, venali. Ho accumulato negli anni, ma non ce l'ho in questo portafoglio specifico, delle tessere tipo improbabili. Tipo tessere della piscina usate una volta nel lontano 2007. Vorrei essere una di quelle persone romantiche che hanno le fototessere, le cose. Non ce l'ho, sono una persona orribile. Non ce l'ho. Se potessi scambiare la mia borsa per un giorno io la scambierei con mia nonna, ragazzi. Perché mia nonna, ecco, se la sua borsa fosse un personaggio sarebbe tipo Mary Poppins. Quindi c'è dentro qualsiasi cosa. La nonna ha tutto, ha tutto. E anche molto bene organizzato. Quello è proprio uno stile, secondo me, cioè è la mia aspirazione massima, ultima della vita. Cioè avere la borsa come quella di mia nonna. Ho questo vizio. Tra tante perfezioni che ho, ho un difetto. Scusatemi, anch'io. Sto scherzando. Ed è questo. Però guarda come... Cioè è oggettivamente un po' un bell'oggetto. È un oggetto che per me è un momento di stacco. Voi direte, ma usa lo yo-yo. Avete ragione. Io adesso farò uno sforzo per usare lo yo-yo. Cosa racconta la mia borsa di me? Beh, sicuramente che sono una persona previdente, per non dire un po' ansiosa. Mi piace essere preparata ad ogni evenienza, però lo faccio anche con una certa stravaganza. Ciao, sono Matilda De Angelis. Se volete vedere altri video di Vogue, cliccate qui.